eh peccato erano con i con i uomini erano con i loro uomini quelle due bellissime ragazze noi siamo gli unici due p***e che siamo in giro tra uomini ci penso io ok ci pensi tu eccole 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 prego come si fa a girare la camera ragazze scusate 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 posso mettere la testa dentro la tua borsa la testa dentro la tua borsa posso farlo grazie mille puoi tenere la camera grazie non è che il covid non credo che la borsa si possa ammalare no non lo so ma sei lì youtuber eh no no youtube eh si posso avere il tuo numero adesso no ma bene grazie mille no io ero interessato al tuo di numero in realtà KS 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 K ciao ragazzi eeeh fai un video eh si sono in diretta sono ragazzi ah ciao ragazzi ciao adesso chiedetemi su insta mentre i finali mi raccomando seguite me ma basta basta perché tutte col dicker basta 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 qua f***o lo instagram oh cro boi no e coi voglio fare una conversazione interessante non l'instagram di me o tra sablo qui o i do cro andiamo via andiamo via mi sono girato il cazzo mi hai girato basta basta grazie a tutti